Ciao a tutti, come vedete dal titolo abbiamo un nuovo test drive, si è un motorhome, guardate lì c'è blu, guardate il motorhome capite com'è grande perché lo contiene completamente blu, in lunghezza, in altezza, in larghezza, state lì e scopriamo cos'è. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, come vi ho un po' preannunciato dall'intro, in realtà oggi vi parlo di un veicolo che ho in prova in test drive da 5 giorni, che ho fatto circa 700 km, è un po' inusuale per me perché mi trovo seduto, come lo vedete dal sedile di guida, in un motorhome. Un motorhome non esagerato di dimensioni perché è 6,99, quindi meno di 7 metri, elegantemente rifinito, diciamo con una buona dotazione a bordo, insomma bando alle ciance, intanto vi spiego esattamente di che cosa si tratta, come si comporta su strada, insomma vi racconto 5 giorni di vita su questo motorhome e anche ovviamente il modello. State lì, mi raccomando, rimanete lì e giriamo la telecamera. Intanto dove siamo? Beh, insomma siamo davanti alla caravan bacci, quindi il veicolo, il nostro motorhome è di caravan bacci, entramo un po' più nello specifico. Si tratta di un motorhome Bussner, anno 2016, 2013 cilindrata, 150 cavalli, 11.000 km, la lunghezza è 6,99, largo 2,35 metri ed è il modello Elegance 6,95. Beh, intanto vi dico subito, il prezzo siamo attorno ai 65.000 euro, sul sito di caravan bacci vedete anche la descrizione, la scheda tecnica oltre queste che sono quelle sommarie e ovviamente il prezzo al centesimo. Saliamo invece un po' a bordo e entriamo. Allora la prima caratteristica di lui, il motorhome, è questa grande luminosità degli interni, già dalla finestra della dinette e ovviamente quello che è ancora il parabrezza e i vetri laterali. Dal lato passeggero è aprivole a scorrimento, dal lato invece guida c'è la porta di accesso con l'alzacristallo elettrico. La dinette è estremamente comoda per 5 persone, girando il sedile di guida, in questo caso è quello passeggero, ci sono esattamente 5 posti direi ben dimensionati. Anzi, a tra proposito godetevi anche l'immagine, un paio di immagini proprio della tavola arredata. Allora siamo all'esterno, intanto lui è Elegance, vi siete anche goduti qualche fotografia di questi 5 giorni. Ora entriamo un po' a vedere una cosa che io ho apprezzato molto. Lui è un garage veramente ben dimensionato, generoso negli spazi, soprattutto due porte d'accesso con uguale misura. E poi un sistema che io ho apprezzato veramente molto, soprattutto caricando la bici, che è questo. Con questa semplice maniglia io sono in grado di far alzare o sollevare il letto e questo mi garantisce, come vedete, per esempio, poter aprire e tirare fuori la bici senza alcun problema di altezza. All'interno, in questo caso, se noi andremo a vedere, il letto è ovviamente più alto. Insomma, sono piccoli dettagli che fanno molto molto piacere. Per esempio, entrambe le porte posteriori sono non solo con gli ammortizzatori di apertura e quindi l'apertura è comandata, non è libera e soprattutto arriva a fine corsa. Ma abbiamo ben tre serrature di sicurezza che questo ne garantisce, direi, una buona, come dire, una buona resistenza a malintenzionate. Non meno importante, non meno importante, come vi dicevo, è la porta di accesso. Ben realizzata, perché è di dimensioni particolarmente generose, con la sua scorrimento della zanzariera, vetro con la chiusura e, ovviamente, come vi dicevo, dal punto di vista della sicurezza, questi attacchi di chiusura automobilistici. Sempre nelle parti di qualità di vita a bordo abbiamo, e qui lo vedete, l'ispezione dei serbatoi sotto e un'ulteriore bottola, invece, posizionata nella parte posteriore del velicolo, nella zona della camera da letto, per poter riporre scarpe, tutto ciò che uno possa eventualmente utilizzare più quotidianamente. Una bottola che, quindi, è estremamente comoda e va a ampliare ulteriormente il vano di stivaggio. Come vedete, il letto si è rialzato rispetto a prima, si è sollevato. Il letto presenta le doghe ortopediche e questo facile sistema di poter sbloccare il letto, farlo scorrere e voilà, e così si ottiene il letto con tutta la grandezza sua. È estremamente comodo per poter dormire e vi posso garantire che il materasso, anzi, vi tolgo le lenzuola in cui ho dormito, così vedete bene il materasso, è un materasso di ottima fattura e soprattutto di una consistenza veramente quasi ortopedica, direi. Come vi dicevo, c'è il passaggio del vano doccia e soprattutto anche il passaggio in bagno che è ugualmente garantito anche se uno il letto lo tira giù completamente perché, come vedete, io che so in mano al telefono riesco a passare intorno. Tutto questo in meno di sette metri che, devo dire, sono estremamente, salve sono sempre io, estremamente comodi da vivere nella coppia. Quattro persone, cioè due coppie, hanno due ambienti separati che non si disturbano assolutamente perché nel momento stesso in cui tiro giù il matrimoniale davanti in cabina, io faccio così e ho chiuso con la mia porta i due ambienti. La mattina il buongiorno si ha a tavola. Già perché state lì, perché adesso vi faccio vedere una volta tirato giù il letto, come occupa il letto rispetto al tavolo e alla dinette e insomma si può vivere tranquillamente dove una persona dorme sul letto tirato giù in cabina e quindi posso lasciarlo giù tutto il giorno e lo stesso a beneficiare, godere di un tavolo con due, tre, e anche quattro posti. Prosseguiamo, giriamo e andiamo nella zona qua. Allora, la zona cucina intanto vi dico, c'è un bel sole, facciamo così così riusciamo a vedere bene. Intanto vi dico che ci sono tre fuochi in linea ben dimensionati e spaziati in maniera corretta, una cornice di appoggio attorno e un lavello in acciaio profondo. Nota estremamente di rilievo sono, lo vedrete bene, i miscelatori sia in cucina che in bagno che in doccia, sono proprio domestici, ma anche la pressione d'acqua, la portata è direi proprio domestica. Poi ci sono una serie di cassetti invece relativi allo stivaggio sotto la parte della cucina e invece sotto il lavello c'è un comodissimo cestello estraibile per le bottiglie e ulteriori vani d'appoggio sotto. Di fronte alla cucina abbiamo il frigorifero, frigo che ha il suo congelatore sopra e la parte sotto ovviamente, un frigo da 130 litri. Dometic, automatico e sopra il frigo invece abbiamo un vano di stivaggio estremamente comodo. Poi, sopra la porta di accesso, e direi che la porta di accesso vi devo dire è di dimensioni XL, estremamente comoda per salire e scendere, con gradino elettrico e illuminazione subito appena entrati. Sopra invece abbiamo la porta d'ingresso, la centralina, che ti dà tutta una serie di informazioni, tra cui siamo in un modello di fascia alta, la temperatura esterna, la temperatura interna e tutto quello che invece sono le utenze interne, tra cui anche la luce notturna. È molto carina perché ha una diffusione di luce all'interno del veicolo. Lasciamo la zona cucina e invece andiamo nella zona notte. State lì che così intanto l'andiamo a vedere. La zona notte si sviluppa in coda con un letto a penisola, estremamente comodo per la coppia un po' esigente, un po' perché ha sia da una parte che dall'altra il passaggio dal letto e quindi è indipendente. Un armadio molto capiente sulla destra e un armadio più piccolino per la biancheria o piccoli capi perché è estremamente comodo in quanto ha anche delle vaschette di contenimento, tutto con i ripiani. Sopra in testata invece abbiamo i pensili di chiusura. Tra le dotazioni che spiccano abbiamo il Dometic per l'aria condizionata. Il letto ha questa soluzione di avere lo schienale che si solleva così stile lettura e questo garantisce qua dove c'è la zona doccia e la zona del bagno un gradevole passaggio e soprattutto anche una possibilità di sfruttare al migliore dei modi questa zona. Tra l'altro la zona notte dalla zona giorno si può tranquillamente separare con una porta scorrevole. In questo modo si ottiene un vano dedicato proprio alla doccia e al bagno e alla camera da letto separata da quella che invece è la cucina. Il letto una volta invece abbattuto trasla qui in avanti e garantisce comunque anche utilizzando il letto nella sua conformazione della nanna proprio il passaggio sia per l'accesso in doccia e sia per andare in bagno. Il bagno ha una bella specchiera, ci sono io sempre qua, molto comoda perché offre una sensazione di spazio e di luminosità che all'interno del bagno non guasta mai, compreso sotto lo specchio. Il miscelatore come vi dicevo prima è di uso domestico perché effettivamente le misure e la sua robustezza nonché la portata d'aria è veramente come quello di un'abitazione. Poi ci sono dei dettagli particolari come il portacarta igienica all'interno, una serie infinita di stivaggi o divani ma anche la specchiera dietro ha tutta una serie di stivaggi all'interno sia da una parte che dall'altra ovviamente. Eccola qua. Direi che il bagno, se concordate con me, ha diversi vani per poter stivare tutto il materiale utile per il bagno. Non ultimo la doccia facendo scorrere la nostra serandina si amplia ulteriormente perché qua dietro e lì c'è il sali e scendi tutta la colonna attrezzata e la doccia assume una dimensione direi molto generosa. Con lui ci sono stati cinque giorni, ci ho percorso circa 800 chilometri. Ora andiamo un po' a parlare su strada e poi le mie considerazioni personali. Grazie a tutti. Iniziamo da lui. Quel dato che vedete 9.4 sono il consumo medio quindi ha fatto più di 10 chilometri con un litro. Devo dire che questi sono dati che a me mi hanno fatto molto piacere, mi hanno reso particolarmente positivo nei suoi confronti. Allora parliamo come si comporta su strada il motorhome. Il motorhome a differenza di un qualsiasi altro veicolo ricreazionale ha tutta una sua filosofia di viaggio. Intanto vi faccio vedere anche la parte del letto matrimoniale sopra, comprensivo di oblò. Il maxi oblò c'è anche nella parte centrale. Vi dicevo che il motorhome ha tutta una sua filosofia su strada. Perché? Perché è più largo, è più alto ed è più lungo rispetto normalmente a un altro veicolo. Questo va tutto a beneficio della vivibilità che c'è a bordo salendo. Su strada il tutto si traduce in un maggiore rollio laterale rispetto a un veicolo più compatto. Ma stranamente come avete visto non va a inficiare nel consumo. Questo perché il rapporto peso-potenza di lui e di questo caso di questo veicolo è veramente ben azzeccato. Cioè è veramente ben rapportato sia il peso che la potenza. Parliamo di 150 cavalli. Omologato per tre persone in viaggio e per cinque posti a tavola e per quattro posti letto. È particolarmente curato nei dettagli. A parte la sua finitura interna dei tessuti, a parte gli arredi. Ma poi ci sono una serie di attenzioni che adesso andiamo a scoprire all'esterno. Che sono un po' quello che io apprezzo molto su veicoli di questo tipo. State lì eh! Eccoci allora ben arrivati ai saluti. Dunque cinque giorni a bordo di questo motorhome. Beh intanto è innegabile che il primo pregio del motorhome è l'abitabilità a bordo. La larghezza completa anche nella cabina di 2,35 metri lo rende in assoluto il campione di comodità e di vivibilità a bordo. Non c'è nessun'altra forma di veicolo recreazionale così comodo come il motorhome. La vivibilità si trasferisce anche nella parte interna, anche nei passaggi dalla cucina al bagno e nella dinetta estremamente comoda. Non ultimo nella camera da letto che vedete là in coda. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio è quando si viaggia si ha una panoramicità, si ha una consapevolezza della strada maggiore rispetto ad altri veicoli. Si gode di più, si entra di più nella natura, in questo caso io ho viaggiato nelle colline della Val d'Orcia e ho potuto vedere paesaggi e tramonti guidando con un maxischermo davanti. Tutto però ha un prezzo, al di là del prezzo economico, ha un prezzo da pagare su strada perché inecabilmente il veicolo non essendo così compatto come qualsiasi altro veicolo dovete fare attenzione agli ingombri. Mi viene da pensare quando voi arrivate al casello autostradale. Se avete appena acquittato un motorhome e scendete da un altro veicolo, un attimo di panico, oddio, oddio, ci passo, ci passo. Sì, ci passate tranquilli, però subito siete più larghi e quindi dovete un attimo prendere la mano. Non ultimo, rispetto ad altri veicoli, il motorhome sicuramente questo parabrezza, molto bello, molto luminoso, ma nelle giornate di sole tenderà a scaldare parecchio. Quindi inevitabilmente una marcia in più, un gradino in più, un livello in più di condizionamento ve lo porta via rispetto a un veicolo tradizionale. La luminosità però si traduce, senza dubbio, in un risparmio dal punto di vista energetico perché tutto il panorama davanti, tutto il panorama offerto dal parabrezza, dai vetri laterali, si traduce anche in questo caso in una maggiore luminosità interna e in minor consumo della luce e della batteria soprattutto. Prege e difetti di questo motorhome nella fattispecie, come vi dicevo, c'è senz'altro l'abitabilità, lo spazio interno. Avrei magari preferito avere qualche dettaglio maggiore, in particolar modo nello spazio, nel passaggio dalla cucina alla dinette, ma capisco che in 7 metri siano riusciti già a fare, come dire, i maghi, sono riusciti già a ottenere un ottimo prodotto nonostante sia soltanto lungo 7 metri, quindi senza salire a 7 metri e mezzo, 8 metri, si ha lo stesso, un prodotto che offre un letto posteriore nautico, una dinette comoda per 5 persone, un bagno con una doccia separata e una cucina più che soddisfacente nello stivaggio. Non ultimo, il letto matrimoniale sopra alla cabina di guida che come avete visto non dà fastidio se uno si siede in dinette. Mi sembra un buon compromesso tra spazio interno e spazio esterno e soprattutto senza salire troppo nei prezzi si riesce ad avere un veicolo ancora fresco, ancora tutto da sfruttare, insomma 11.000 km. Va bene, per questo è tutto, fate i bravi perché come dico io a fare il cattivo ci penso, io. Ciao a tutti!